buongiorno a tutti ben ritrovati al nostro corso di storia della filosofia medievale medioevo è una categoria storiografica questo vale per la storia ma vale ancora di più per la filosofia per la storia del pensiero è infatti inconcepibile un'epoca di ben mille anni in cui i filosofi teologi gli autori in generale si sono serviti sempre delle stesse fonti hanno fatto riferimento sempre alle stesse argomentazioni e hanno sostenuto sempre le stesse tesi in fondo studiando severino boezio anselmo d'aosta pietro belardo giovanni scott e riugena abbiamo già potuto sperimentare come il medioevo sia ricco di tesi differenti di posizioni differenti di una pluralità di idee ma questo risulta ancora più chiaro nel passaggio tra dodicesimo e tredicesimo secolo in questo momento storico assistiamo un vero e proprio cambiamento d'epoca paradigmi scientifici che si erano considerati validi fino ad allora vengono messi in discussione autori autoritate che erano ineccepibili che offrivano argomenti inconfutabili cominciano a essere accantonate a vantaggio di altri autori di altri testi questo cambiamento d'epoca è segnato in modo indelebile da tre fattori fondamentali la traslazio studi la nascita delle università e la nascita degli ordini mendicanti il primo fattore decisivo che determina questo cambiamento d'epoca è la circolazione sempre più imponente di traduzioni in lingua latina di testi della cultura greca e della cultura araba tanto per fare qualche esempio la circolazione dell'intero corpus aristotelico e degli scritti di avicenna e di averroè fino all'undicesimo secolo le autoritate sin discusse sono gli autori della sapienza cristiana vale a dire i padri latini e i padri greci boezio gli enciclopedisti come cassiodoro e esidoro di siviglia tutti autori che in molti casi rappresentano anche il principale veicolo della cultura greca si pensi ad esempio alle traduzioni delle opere logiche di aristotele la cosiddetta logica vetus realizzate da severino boezio a partire dalla prima metà del dodicesimo secolo si assiste a un grandioso processo di trasmissione del sapere esso consiste principalmente in un movimento di traduzione che nel corso di un secolo permette all'occidente di colmare alcune lacune teoriche sia nei confronti della cultura antica sia di quelle ebraica araba e bizantina che avevano già da tempo raccolto e assimilato l'eredità greca i frutti di questo imponente processo di assimilazione del sapere si mostrano con chiarezza nel tredicesimo secolo quando nelle biblioteche di conventi e monasteri comincia circolare un numero sempre più significativo di copie delle traduzioni latine di opere fondamentali della cultura greca e della cultura araba la spagna rappresenta senz'altro uno dei più importanti centri della traslazio studi la peculiarità delle condizioni storico sociali che caratterizzano la penisola iberica a partire dalla fine dell'undicesimo secolo non ha eguali nel resto d'europa per molti anni si è pensato che il centro geografico delle traduzioni dall'arabo fosse la città di Toledo la natura trilingue della città dovuta alla compresenza di musulmani mozarabi vale a dire cristiani arabizzati ebrei e cristiani ha alimentato l'idea che proprio a Toledo si è iniziata la grande attività di traduzione del sapere arabo tale concezione si è progressivamente ridimensionata grazie ai contributi di studiosi come Minio Paluello e Marie-Thérèse d'Alverni che hanno mostrato l'inconsistenza storica di tali ipotesi pur non sottovalutando comunque l'importanza di Toledo come centro culturale un'area culturalmente vivace è anche l'Italia meridionale e in particolare la Sicilia da sempre in contatto con l'impero bizantino e al contempo con il mondo arabo tanto che i conquistatori normanni favoriscono il mantenimento del trilinguismo nell'isola vale a dire si parlava il latino, il greco e l'arabo in modo particolare la corte di Palermo rappresenta il cuore propulsivo delle traduzioni dal greco e dall'arabo sotto il sovrano Guglielmo I lavora Enrico Aristippo uno dei primi traduttori dal greco di opere scientifiche e filosofiche con Federico II l'interesse principale si sposta dal mondo greco-bizzantino al mondo arabo verso cui l'imperatore nutre grande curiosità e ammirazione al suo servizio lavora l'astrologo Michele Scoto che sarebbe riduttivo considerare un semplice traduttore dal momento che egli scrive trattati di astronomia, alchimia, meteorologia e fisiognomica L'idea che il sapere greco sia arrivato al mondo occidentale solo in modo mediato attraverso la trasmissione araba è da tempo stata messa in discussione ed è emersa l'esigenza di ridare il giusto valore alle traduzioni dal greco di autori come Giacomo Veneto, Burgundio da Pisa o Enrico Aristippo senza poi dimenticare le traduzioni anonime dei libri di logica o dei libri naturales il vero contributo della mediazione araba nella trasmissione del Corpus Aristotelicum all'Occidente più che nella trasmissione letterale dei testi sta nell'orientare la lettura di Aristotele nel XIII secolo nell'ambiente delle università di Parigi in particolare le traduzioni arabe veicolano infatti una specifica concezione del sapere e della divisione della filosofia che non mancherà di influenzare i maestri parigini complessivamente possiamo dire dunque che esistono due vie della traduzione una via dal greco al latino, la cosiddetta appunto via greca e una via dall'arabo al latino, la via araba vediamo qualche esempio Per quanto riguarda il Corpus Aristotelicum tra il 1125 e il 1150 Giacomo Veneto traduce per la prima volta in lingua latina la fisica, la metafisica, il de anima, i parva naturalia e un testo pseudo-aristotelico intitolato De Intelligenzia tra il 1150 e il 1160 Burgundio da Pisa traduce l'Etica Nicomachea e il Degenerazione e Corruzione mentre negli stessi anni Enrico Aristippo di cui già abbiamo parlato a proposito dell'attività di traduzione della corte palermitana di Guglielmo I traduce il Degenerazione e Corruzione e i Meteorologica intorno al 1160 possiamo poi annoverare alcune traduzioni anonime degli analitici secondi una traduzione anonima della fisica la cosiddetta traslazio vaticana e una traduzione anonima della metafisica sia la traduzione della fisica che quella della metafisica ci sono però pervenute solo parzialmente ora, se tutte queste traduzioni erano traduzioni latine dal greco con Gerardo da Cremona abbiamo il primo caso intorno al 1170 di una traduzione degli scritti aristotelici dall'arabo presumibilmente, peraltro, ricavata da una versione in siriaco questo significa che la versione latina di Gerardo da Cremona era una versione, per così dire, di terza mano vi era stata prima una traduzione dal greco al siriaco quindi una traduzione dal siriaco all'arabo e infine Gerardo da Cremona aveva lavorato su questa traduzione araba per redigere la sua versione latina versione latina degli analitica posteriori della fisica, del De Cielo e del Mundo, del Degenerazione Corruzione e dei Meteorologica questa traduzione è quella, peraltro, utilizzata da Alberto Magno nei suoi commentari nel XIII secolo, e più esattamente intorno al 1230 operano il maestro francescano Roberto Grossatesta che traduce ancora una volta l'etica nicomachea e il De Cielo seppur parzialmente e Bartolomeo da Messina che traduce invece il De Mundo, I Magna Moraglia e l'etica eudemia chiamata anche De Bona Fortuna sempre nel XIII secolo possiamo annoverare altre traduzioni anonime una traduzione anonima del Departibus Animalium una del Demotibus Animalium una della Retorica e una degli Economica decisivo è indubbiamente il lavoro di Guglielmo di Moerbeke vissuto tra il 1215 e il 1286 Guglielmo riesce nell'impresa di tradurre tutti gli scritti aristotelici o più esattamente di tradurre gli scritti aristotelici in lingua latina laddove non esisteva una traduzione preesistente di rivedere le traduzioni preesistenti laddove poteva contare su materiale già tradotto ad esempio il De Anima di Guglielmo di Moerbeke è fondamentalmente una revisione della versione di Giacomo Veneto ma gli scritti aristotelici non sono gli unici scritti ad arrivare nell'Occidente latino tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo Adelardo di Bat per esempio traduce gli elementi di Euclide Domenico Gundi Salvi traduce la Shifa di Avicenna vale a dire Liber De Anima un trattato largamente fondato sul De Anima di Aristotele ma che non può essere considerato né un commento né una parafrasi quanto piuttosto un'opera autonoma quindi Alfredo Anglico il De Mineralibus di Avicenna Marco di Toledo è il primo a realizzare una versione latina del Corano e poi abbiamo Michele Scoto di cui già abbiamo parlato fondamentale perché ha dato la possibilità al mondo latino di conoscere l'intero corpo saverroistico L'elenco che vi ho proposto è parziale nel senso che potremmo annoverare altri autori altri testi che approdano nell'Occidente latino tra il XII e il XIII secolo Tutti questi scritti vanno ad arricchire le biblioteche dell'epoca e vengono copiati centinaia e centinaia di volte Tuttora chi vuole fare l'edizione critica di qualcuno di questi testi per esempio del cosiddetto Aristotele latino deve tener conto di centinaia di esemplari per poter realizzare uno stemma codico Ma dove vanno a finire questi scritti? Chi li studia? A chi servono tutte queste nuove traduzioni o questi trattati e queste opere provenienti dalla cultura greca e dalla cultura araba? E qui inizia il secondo capitolo della nostra storia legata al cambiamento d'epoca tra XII e XIII secolo vale a dire un capitolo dedicato alla nascita delle università